Buongiorno a tutti. In questa fase di emergenza ad attività didattica sospesa il personale della scuola si vede impegnato online. Da un lato il personale amministrativo impegnato in smart working, dall'altro il personale docente impegnato nell'attività didattica a distanza. Proprio di questo vogliamo parlare con questo intervento. Una breve premessa, l'attività didattica a distanza, a nostro parere non è un'attività obbligatoria e vincolante per i docenti, tant'è che si sono registrate varie defezioni in alcune scuole d'Italia dove alcuni docenti non hanno dato la loro disponibilità a partecipare alle attività didattiche a distanza organizzate dalle scuole. Se non è obbligatoria per i docenti, a mio parere non lo è nemmeno per gli alunni. Quindi si pone un problema legato alla valutazione eventualmente posta in essere dai docenti proprio sulla base delle lezioni svolte dal remoto. Alcune scuole hanno fatto deliberare dal collegio dei docenti alcune indicazioni di massima, alcune linee guida, addirittura altre si sono spinte a formulare delle griglie di valutazione. Tuttavia l'attività di valutazione svolta durante questa fase di attività didattica a distanza presenta dei profili giuridici piuttosto problematici perché se da un lato non ha alcuna base normativa, perché non ci sono dei riferimenti di natura legislativa chiari sulla attività stessa, dall'altro incontra degli ostacoli di natura oggettiva che impediscono un'effettiva fruizione del diritto all'insegnamento da parte, del diritto ai problemi di natura logistica, ci sono molte zone del paese non coperte da banda larga, addirittura casi in cui non sono raggiunti i paesi dalla linea internet o a casi di disagio economico o sociale dove mancano proprio gli strumenti basilari per poter partecipare alle attività offerte online dalle istituzioni scolastiche. Quindi ci si chiede quale valenza possa avere la valutazione dell'attività svolta dagli alunni a casa durante queste lezioni. A mio parere la valenza giuridica è di scarso rilievo in quanto non c'è alcun riferimento normativo che possa in qualche modo giustificarla né tantomeno può garantire quella parità di trattamento tra gli alunni che deve essere assolutamente ferma nell'attività scolastica. Quindi ci si auspica che a breve intervenga il legislatore non essendo sufficiente un mero atto amministrativo per poter eventualmente disciplinare un'attività di valutazione durante questa fase ove fosse possibile perché ripeto l'unica attività di valutazione che ha un valore giuridico in questo momento è quella fatta in maniera tradizionale cioè fino all'ultimo giorno di attività di tattica ordinaria e quindi non sappiamo se il legislatore interverrà in qualche modo per sanare questa fase oppure no. Grazie a tutti.